Mi sembra che ci sia un grande afflusso, quello che speravamo, perché noi siamo sempre stati grandi sostenitori di Fiera Agricola, ancora dai tempi di mio nonno, io venivo a Fiera Agricola che avevo 4-5 anni, quindi ancora prima di andare a scuola, e mi sembra che oggi ci sia veramente un'affluenza straordinaria, come è stata peraltro ieri, un afflusso molto molto interessante. Trovo i clienti un po' da tutta Italia, anche qualche straniero, tanta gente che poi rivedo volentieri perché vengono alle fiere per tenersi aggiornati sulle novità, sui modelli nuovi che ci sono e c'è molto interesse, per cui direi una fiera di livello molto buono. Noi abbiamo un reparto che è dedicato agli sviluppi dell'agricoltura sempre più tecnologica, sempre più dotato di elettronica, di comandi a distanza, abbiamo trattore ibrido e stiamo studiando un trattore elettrico, per cui bisogna essere all'avanguardia sicuramente.